10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, via! Attenzione! Ragazzi, sono 16 minuti! Sono 16 minuti! Sono 16 minuti! Furti con la Beccalarenne, Zaninelli con la TAPAM! Macchina! Attenzione! Ragazzi, guidate più tranquilli! Sono 16 minuti con due pit stop! Un minuto e venti di gara! Magno Cavallo, Giorgio, Attura, Capuano! Quindi al comando da Ferrari, seguita da una Esket, da una Toro Rosso, da una seconda Ferrari! Poi abbiamo Benetton, Red Bull, Cataram, seconda Red Bull, Renault ING, seconda Esket! Poi abbiamo Jaguar, Mercedes, Williams, Brabham e McLaren-Malbolo! Pit line aperta in questo momento per il primo pit stop! Pit line aperta, attenzione! Pit line aperta in questo momento per il primo pit stop! Mi raccomando, rispettate le righe di entrata e di uscita! Pharmac ... dam ... ... ... ... ... ... il stop per la ferrari no deve ripare errore per una ferrari al pit stop ragazzi i raccoglitori non possono fare da meccanici spegni la macchina e mettila da fuori drive through per il pallone organico o le no passaggio al pit lane è stato attaccato il bollino ma drive through per lui ok morgani va bene drive through effettuato siamo a 3 minuti e 50 di gara posizioni caduano con la ferrari seguito da cardelli con la red bull l'altura con il color rosso silenzio sul palco silenzio sul palco ragazzi capuano ferrari cardelli adesso al comando con la toro rosso capuano con la ferrari secondo cutugno con la seconda red bull scusate cardelli cutugno con la seconda red bull poi abbiamo nico satti con la jaguar manciocchi con la esket morgani con la renault attura con la toro rosso magno cavallo con la ferrari decaro con la peniton urbani con la cateram cuomo williams bruschi mercedes zainelli brabham e fonti mclaren malboro fermo giorgio alberto siamo a 4 minuti e 30 di gara il train chiuso a questo momento problemi all'ala per la brabham di fabrizio zainelli ma che continua l'inseguimento posizioni dopo il primo pit stop capuano ferrari morgani renault cardelli red bull manciocchi scusate esket magno cavallo ferrari cardelli red bull decaro benetton cutugno red bull attura calore rosso nicosatti jaguar urbani caperam cuomo williams bruschi mercedes zainelli brabham fonti mclaren malboro all'inseguimento davide morgani della ferrari di attoio capuano a sua volta inseguito dalla esket di alessato macciocchi e dalla ferrari di luca magno cavallo con i primi 4 seguiti da vicino comunque anche dalla red bull di massimo cardelli in quinta posizione attenzione ragazzi mi raccomando si sta avvicinando si sta ricompattando il gruppo di testa con morgani che si avvicina a capuano seguito da manciocchi che a sua volta avvicinava attenzione attenzione nutritto attenzione l'ingresso di rettilineo attenzione attenzione bravissimi i primi attenzione molto vicino Davide Organi con la Renault alla ferrari di Antonio Capuano per la battaglia per il primo posto terzo posto per Luca Magno con la ferrari cardelli massimo quarto con la red bull problema per la esca di manciocchi attenzione sono errore di da esca di manciocchi quindi abbiamo al comando Magno Cavuano Ferrari secondo Morgagni Renault terzo Cavuano Ferrari a quarto posto Cardelli Poiattura Putugno Nicosatti De Caro Manciocchi Bruschi Zainelli Cuomo Fonti e Urbani P3 in aperta in questo momento per il secondo pit stop attenzione attenzione secondo pit stop secondo pit stop e la Benetton di De Caro stranamente stanno avendo una bella caretta Ciccio quando vuoi posizioni Magno Gallo Ferrari Cavuano Ferrari Attura Toro Rosso Morgagni Renault Cardelli Red Bull Nicosanti Giauar Manciocchi Esket Cudugno Red Bull De Caro Benetton Bruschi Mercedes Cuomo Williams Zaninelli Brabham Fotti Meccare e Malboro C'è il balser dei pit stop in questo momento quindi abbiamo aspettiamo che completino tutti i team il loro pit stop attenzione raccoglitori ok silenzio sul palco al pit stop la Ferrari del leader Luca Magno Gallo ricordo pit lane aperta per il secondo pit stop posizioni ma non tutti i piloti hanno già fatto il loro pit stop Cavuano Antonio al comando con la Ferrari seguito da Luca Magno Gallo con la seconda Ferrari Davide Senti Jaguar Promo Williams Bruschi Mercedes Ponti McLaren Malboro Zaninelli Brabham Urbani che è ritirato Giorgio Alberto di tirato tutte le macchine hanno effettuato il loro secondo pit stop adesso vediamo come attenzione raccoglitori e da allora le posizioni con tutto i due stop effettuati Capuano e Magno Cavallo con le due Ferrari al comando seguiti da Davide Morgagni con la Renault quarto Andrea Attura con la Toro Rosso poi abbiamo Cardelli e Cudugno con le due Red Bull poi abbiamo De Caro con la Benetton Nico Santi con la Jaguar Manciocchi con la Esket Bruschi con la Mercedes Cuomo con la Williams Fotti con la McLaren Malboro Zaninelli con la Brabham e poi abbiamo ritirato Urbani con la Caterham e Giorgio con la seconda Esket con la Bambara la darita come hai di che hai lì un po' di lì un po' di è Capo Antonio al comando seguito da Davide Morgagni poi abbiamo Magno Cavallo con la seconda Ferrari Attura con la Toro Rosso poi abbiamo Cardelli con la Red Bull 4 minuti al termine 4 minuti al termine del Gran Premio poi avremo la pausa pranzo posizioni Capo Antonio Ferrari Morgagni, Renault, Magno Cavallo, Ferrari Attura, Toro Rosso, Cardelli e Coutune con le due Red Bull De Caro, Benetton, Manciocchi, Esket Nicosatti, Jaguar, Cuomo, Williams Bruschi, Becceles, Ponti, Beccar e Malboro Zaninelli, Brabham Best Rapp in pista in questo momento per Best Rapp in pista in questo momento per Luca Magno Cavallo 15.074 a tutti i piloti girano intorno a questi tempi con una differenza tra il primo e l'ultimo di quattro decimi al comando Davide Morgagni con la Renault seguito da Antonio Capuano e da Luca Magno Cavallo con le due Ferrari grande gara di rimonta di Davide che ha avuto anche qualche problema al momento guida il gruppo quindi Morgagni, Cavuano, Magno Cavallo Attura, Cardelli, Coutune De Caro, Manciocchi, Nicosanti Cuomo, Bruschi, Ponti, Zaninelli attenzione silenzio sul palco silenzio sul palco silenzio sul palco grazie silenzio sul palco un minuto, un minuto e venti al termine Morgagni al comando seguito da Magno Cavallo Cavuano Cardelli Attura Coutune De Caro Nicosanti Manciocchi Cuomo Bruschi e Fonti un minuto al termine posizione posizioni Morgagni con la Renault Magno Cavallo e Capuano con le due Ferrari poi abbiamo Cardelli con la Red Bull Attura con la Rosso Fudunio con la seconda Red Bull De Caro con la Benetton Nicosanti con la Jaguar Manciocchi con la Esket Cuomo con la Williams Bruschi con la Mercedes Fotti con Valen Malboro poi ritirati Zaninelli Brabham Urbani Caterham Giorgio Esket Ok, deve chiudere soltanto Davide Morgagni, tutte le macchine sono stoppate, grazie, tutte le macchine stoppate, bravi Bravo Davide Morgagni